Buonasera, noi siamo gli Avengers Questa è la nostra prima intervista dopo Emergenza Festival che abbiamo appena suonato a Emergenza Festival e siamo ancora esaltatissimi Gli Avengers sono una band che è nata nel 2012 e il nostro genere non è ancora definito noi lo definiamo Rank Ma è un'emozione per il fatto che comunque c'è sempre una carica immensa prima di iniziare a suonare ogni serata L'emozione principale, penso anche per i miei colleghi consiste nel fatto che comunque prima di iniziare a suonare prima di sedere sul palco è bellissimo caricarsi tutti insieme Ci si lascia andare totalmente dopo la prima canzone che di solito è sempre la barriera da superare per riuscire a sfondare nella serata Distrai Fai bene 47 Nostri soprannomi Sinceramente non abbiamo mai pensato a dei soprannomi da attribuirci Lui è Davide, chitarrista e lo chiamiamo Dave Dave, Nick, Ema e Nico La chitarra Le mie corde vocali Prima lui perché io Loro tre Buona risposta, bravo Qualche ragazza magari Vabbè lui ha troppe cose da portarsi dietro il rullante, il pedale Quindi la ragazza direi che lo soddisfa Molto di più Noi siamo gli Avengers E siamo qui per Radio Milano FM Con Music Motherfucker La mia Allia Grazie a tutti